invece questi qua di mio genero no, questi non li compartisco con nessuno, lasciatemi a me le mie cicce, dottore tappati le orecchie, se guardi non sto facendo niente, è tutto sfinto, di plastica, con il giocattolo, vediamo un po', ma che bonità, ma che bonità, ma cos'è questa robina qua, vediamo un po', oh troppa pubblicità, una recompensa poi signori, dai stop a queste cose, no, devono vedere e ingrassare solo a vedere, certuni eh, nientate eh, 800 gane, tu ha stop a ducchiere, niente, fermi e guardami, dai, apri, no, sembra un po', non so, un capignolo, allora, io voglio il cannolo, il cannolino, cannolo, cannolino e quello è la frutta, voi, ciao mamme, ancora auguri, bye bye, è un messaggio subliminale, appena ho fatto il anno, oh, faccio anche sponsor, vada viaggiata, vediamo se mi piace, che bello delle notte, è vero, è vero, sì, ti piace, pare di sì, la provi, mmm, una nuvola, l'ho fatta io, brava Anna, che buono, sentite bene, sentite bene, buono Anna, buonissima, mmm, ottimo, auguri mamme, ciao, e allora mamme, auguri, facciamo questo brindisi, vi avvicinate, non ho il potere, tipo, cin cin, dai, poi guardiamo il regalo, lo condivido con tutti voi, ma però lo tengo io, eh.